L'ufficio di pubblica tutela di Vrea nasce a seguito della positiva collaborazione fra la città metropolitana e il Tribunale che ha reso disponibile all'interno del Palazzo di Giustizia di via Cesare Pavese 18 degli spazi per accogliere uno sportello specializzato in materia di tutele e di amministrazione di sostegno. Il progetto è anche frutto del costante confronto e collaborazione con i servizi socioassistenziali e sanitari del territorio che giornalmente si occupano di fragilità e di persone sottoposte a tutele o amministrazioni di sostegno. L'esperienza maturata nel corso degli anni dalla città metropolitana che è come noto e titolare di funzioni di cura dello sviluppo strategico del territorio ai sensi della legge del Rio ma anche di specifiche funzioni di supporto ai tutori e agli amministratori di sostegno alla luce delle disposizioni regionali ha permesso quindi e permetterà di avere anche sul territorio di Ivrea come è stato per il territorio del Tribunale di Torino uno sportello dedicato ad accogliere l'utenza, la cittadinanza tutta che ha bisogno di sapere la differenza fra i provvedimenti di protezione per poterli attivare a favore di un proprio congiunto ma anche per aiutare e supportare nello specifico i tutori e gli amministratori di sostegno già nominati nell'esercizio dei propri compiti. L'ufficio di pubblica tutela inoltre svolgerà un'importante funzione di raccordo tra i magistrati e i servizi del territorio facilitando l'attuazione del progetto di vita laddove questi due soggetti debbano necessariamente integrarsi e collaborare. L'obiettivo e la mission dell'ufficio non è tanto quella di fornire un approccio burocratio alla gestione tutelare quanto di rendere i destinatari realmente consapevoli dei bisogni dei propri assistiti in un'ottica che li responsabilizzi nel corretto esercizio dei diritti di ciascuno di noi. Lo sportello verrà in prima battuta gestito da due assistenti sociali fornite dalla cooperativa Andirivieni che è risultata affidataria di un progetto approvato nell'ambito del piano integrato territoriale Peter Alcotra e che sarà aperto al pubblico il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, il giovedì dalle 11.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Lo sportello è ubicato nella stanza numero 60 al pian terreno dall'ingresso B del Palazzo di Giustizia e risponde telefonicamente allo 0125 284258 e risponde anche a una mail che è pubblicatutela.ivrea-cittametropolitana.torino.it Città senza accento. Il lavoro che faranno le assistenti sociali quindi sarà sia di contatto diretto con il pubblico eventualmente accolto anche su appuntamento ma anche in back office normalmente al pomeriggio nel rapporto con i magistrati.